Federico ormai ci state abituando a gare a senso unico ma adesso al di là delle battute dobbiamo dire che la vittoria di oggi è stata particolarmente importante, si è dato a continuità ai risultati del mese di marzo che viene visto trionfare Rosetto in Coppa Italia poi in trasferta e per te è stato sicuramente un ritorno positivo? Sì era la terza partita in poco tempo se contiamo anche la Coppa Italia la sesta partita quindi sicuramente non facile a livello fisico io ho saltato le scorse due partite per un piccolo acciacco dovuto alla Coppa Italia però appunto oggi ho giocato un po' di più e ho dato modo a Trevor a Kapp di riposare un po' di più ma questo è diciamo lo spirito della nostra squadra quindi siamo contenti sicuramente per la vittoria e adesso prepariamo la prossima settimana come ogni volta Solo qualche incertezza se così si può dire nel secondo periodo ma di fatto non avete mai consentito ai vostri avversari di rientrare in partita? Sì qualche palla persa un po' di superficialità però in queste partite con un po' di stanchezza è una cosa che ci può stare siamo stati bravi comunque a non dargli mai la speranza di poter entrare veramente in partita e questo è quello che conta alla fine Ormai siamo arrivati alle battute finale della regular season domenica andrete a far visita a Trapani poi ci sarà recupero in casa con Cantù e chiuderete proprio al Carnera con Orzinuovi ormai siamo nel countdown finale per consacrare questo primo posto che avete dimostrato in tutti i modi di strameritare Sì penso che lo meritiamo ma dobbiamo dimostrarlo sul campo come ogni volta quindi non possiamo permetterci passi falsi contro squadre sicuramente meno attrezzate di noi dobbiamo farci trovare pronti contro Cantù in casa che sicuramente sarà una sfida importantissima e quindi ci prepareremo al meglio per affrontare quest'ultimo periodo di stagione Grazie